Sono un giocatore a cui piace far gol al compagno, piace inserirsi, sono un giocatore abbastanza tecnico, però piano piano nel corso della mia piccola carriera sto anche cercando di mettere il lato atletico per aiutare sempre i compagni. Ad oggi le indicazioni sono solo positive, sappiamo che il campionato sarà difficile, sappiamo che ogni partita sarà una gara a sé, soprattutto in trasferta, però siamo tranquilli, stiamo bene, l'importante è lavorare bene e cercare di mettere più benzina per arrivare pronti ad ogni gara durante il campionato. Già dalla prima uscita ufficiale si è visto un gruppo unito che sta crescendo, come sentito anche nel servizio di Gianni Bruno, mancano all'appello ancora qualche tassello e proprio sull'inserimento dei nuovi acquisti sentiamo il parere di giunta. Sicuramente il modulo l'ho già fatto spesso, quindi comunque i movimenti sono presto a poco quelli, soprattutto devo dire grazie ai compagni che mi hanno accolto molto bene, la squadra ha tanta qualità, una qualità importante è quella che ci ha voglia, ci ha fame, si vede la voglia di aiutarsi tra compagni, quindi siamo bene già come gruppo e questo credo sia la parte principale prima di tutto quello che viene in campo.